Non so i dettagli della manovra notturna, ma penso che sia l'articolazione del quadro presentato dal DEF. Non mi pare ci siano grandi cambiamenti. Quindi una manovra a debito per spese correnti, difficilmente sostenibile anche solo dal punto di vista macroeconomico. I dettagli li vedremo, ma l'impostazione è quella. Più debito per spese correnti. Non è una gran ricetta.